Ci tenevo in relazione a come è nata questa idea in vista delle regionali, è nata in una discussione con altri colleghi sindaci, in particolar modo con Emiliano, il presidente dell'Anci, che partiva dall'idea di ripensare la regione consentendo lo sviluppo a partire dai comuni e dalle comunità, questo in estrema singola.